Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica e alla seconda parte di questa guida su Imager. Nella prima parte abbiamo visto che cos'è Imager, la sua storia, le principali funzionalità e fondamentalmente abbiamo visto la sua funzione fondamentale, cioè l'archiviazione delle immagini. Ma, come dicevamo nell'altro video, Imager serve anche per creare GIF animate e meme. Vediamo adesso queste due ulteriori funzionalità. Penso che tutti sappiano cos'è una GIF animata, si tratta di un'immagine, un formato di immagine molto popolare sul web, che supporta, a differenza del JPEG, anche l'animazione. Quindi si tratta di disegni o immagini in movimento, ma il formato è quello di un'immagine. I meme sono ampiamente diffusi, molto diffusi nei social media, tutti ne abbiamo esperienza, sono forse uno dei formati comunicativi più utilizzati nell'ambito social. Perché? Perché in ambito social l'interazione comunicativa difficilmente può avvenire in forme complesse tramite il testo, la digitazione del testo, quindi lettura o scrittura di lunghi testi, e quindi anche il confronto argomentativo basato sui lunghi testi è difficile. Per sopperire a tale limite, gli utenti dei social hanno inventato tanti strumenti. Il più popolare di tutti, dicevamo, è il meme. Il meme è semplicemente un'immagine con un breve testo, in genere posto sulla parte superiore o anche sulla parte inferiore dell'immagine, e quindi unisce all'impatto dell'immagine la significatività del testo, perché si tratta di testi estremamente sintetici ed estremamente significativi, quindi con un alto valore espressivo. Queste caratteristiche hanno fatto del meme, come dicevo, uno strumento che sopperisce ai limiti dei social media. L'altra caratteristica dei meme è che si diffondono, o quando sono ben riusciti, in modo virale, rapidissimo, arrivano a milioni e milioni di visualizzazioni, condivisioni, eccetera. Ma vediamo adesso di realizzare una GIF animata. Sono nella home page di Imager, non sono logato, perché posso creare, non solo caricare immagini, ma anche creare GIF animate e meme senza bisogno di essere registrato. Ma vediamo un attimo un'altra funzionalità, ingrandisco un po', la ricerca. Come posso cercare per trovare immagini, meme, GIF animate? Bene, nella case della ricerca devo rispettare una sintassi minima di base, per esempio se devo cercare per titolo, dovrò digitare titolo e due punti, e poi digitare un titolo, vedete, questa è la sintassi, se devo cercare un utente, Gianfranco Marini, ecco, dovrò digitare prima Gianfranco Marini, user, due punti, ed ecco qui l'utente Gianfranco Marini, proviamo a vedere se funziona, ecco qui le mie gallerie, le immagini che io ho caricato, eccetera, eccetera. Bene, vista questa funzione, posso cercare anche per tag, sempre rispettando la sintassi o per estensione dell'immagine, vediamo un po' la creazione di una GIF animata. Allora, è molto semplice, rapida, vado a cliccare Video to GIF, infatti la procedura è quella di scegliere un video dal quale vogliamo ricavare la nostra animazione, si preoccuperà Imager di operare, appunto, questa trasformazione. Quindi, tutto quello che devo fare è cercare il video e incollare qui il link. Automaticamente il servizio rileverà il video, eccolo qua, è un video di Paperino, io devo spostare questa barra bianca verticale, in modo da individuare il punto iniziale della mia animazione. Paperino Boscaiolo, diciamo che voglio farlo iniziare da qui, ecco Paperino che cammina, facciamolo durare, ecco, mi si propongono 5 secondi di animazione, io la faccio durare un po' di meno, ecco, questo è l'intervallo di tempo, a questo punto non mi resta che cliccare su Create GIF. Come vedete è tutto molto rapido, digiterò anche un titolo, Paperino Boscaiolo, meglio senza U, e poi posso mettere un tag, insomma le solite cose, mettiamo col cancelletto Disney, posso naturalmente, ritorniamo alla grandezza normale, posso naturalmente anche condividere questa animazione con la comunità, posso, vedete, cliccando su Embedded, recandomi con il puntatore sull'immagine, mi comparirà il link diretto, e poi un menu a discesa, che mi consentirà di condividere il link, link diretto, link per incorporare in HTML, quindi in una pagina web, in un blog, eccetera, in un forum, e questo non ho idea di cosa sia, ah, su Reddit, chiedo scusa, c'è scritto. Bene, avete visto quanto è semplice creare un'animazione, a questo punto io mi loggerò, e vedremo come si crea il meme, dunque sono già registrato, quindi posso logarmi o registrarmi, anche utilizzando un account di un social media, Twitter, Facebook, Twitter, Google, Yahoo, io invece userò la mia mail, qui compare ancora la mia GIF, a questo punto io la condivido con la comunità, cioè con gli altri utenti, no, c'è stato un errore, chissà perché, controlliamo dopo, non perdiamo tempo, e andiamo a vedere adesso come si crea un meme, quindi andiamo a make a meme, e vedete che me ne vengono proposti alcuni, io posso esplorare, oppure posso caricare un'immagine, adesso proviamo a usare uno di questi, per esempio Joker, ecco qua, a questo punto tutto è molto semplice, qui digiterò il testo superiore, vedete i meme generano due testi, creiamo tutto, lo rimpiccioliamo un po', ecco qua, si può, come vedete, rimpicciolire e restringere, così come si può ricollocare la banda di testo, dove si vuole, e qui ricompletiamo, parodiando, secondo la mentalità di Joker, il principio del panologismo gheliano, addirittura, e bene, a questo punto potrei dire di aver finito, non mi resta che cliccare sul pulsante, make this meme, cioè crea, realizza questo meme, ecco qua, è già pronto, e qui come al solito darò un titolo, descriverò l'immagine, inserirò i tag, e lo condividerò, o se lo ritengo opportuno, con la comunità, adesso lo farò, ecco qua, ho dato un titolo, ho inserito il tag philosophy, e a questo punto lo condivido con la comunità, il mio post è stato condiviso, sono tornato nella pagina principale di Imager, adesso vediamo con più calma, il povero Niki Lauda oggi è morto, vediamo questa immagine, ecco vedete, che raccoglie, che è formata da tante immagini, la voglio aggiungere ai preferiti, mi piace, l'aggiungo ai preferiti, e poniamo che la metta qui in New Folder, ed ecco fatto, l'immagine è stata aggiunta ai preferiti, per visualizzare i miei preferiti, vado sulla galleria, dove ho tutto quanto, il risultato del mio lavoro, vedete le immagini, che ho realizzato, ho caricato, e i favoriti, e quindi andando in New Folder, abbiamo le immagini, che ho salvato, quindi posso creare anche delle cartelle, in cui inserirò molto rapidamente, le immagini, le GIF, i meme, che mi sono piaciuti, bene, diciamo questo è tutto, sono le basi di Imager, è uno strumento, veramente interessante, gratuito, uno strumento molto intelligente, è un social che ha seguito, una sua strategia originale, secondo me, molto migliore, di quella di altri social, un oasi, come dicevo, viene definito, questo social, dall'articolo del post, che ho linkato nella presentazione, vi ringrazio, e vi auguro una buona giornata.